Vertenza a Beltrame, i vertici della società di San Giovanni Valdarno sono stati convocati dall'assessore Gianfranco Simoncini su input del capogruppo UDC in consiglio regionale Giuseppe Delcato. L'incontro è per riferire sulla data di ripartenza della produzione e per chiarire le intenzioni future. Il tavolo di crisi a cui parteciperanno anche i sindacati, le istituzioni locali e dei lavoratori è fissato per domani 30 aprile nella sede dell'assessorato alle attività produttive. Nel novembre del 2012 la proprietà Beltrame, dopo mesi di trattative, incontri e manifestazioni da parte delle maestranze, aveva espresso la volontà di investire ancora sul sito di San Giovanni Valdarno con la conseguente ripresa della produzione dei laminati entro il febbraio 2013. Una condizione che vede direttamente interessate 80 famiglie e l'economia di un intero territorio legato alla siderurgia, ha spiegato il capogruppo Del Carlo. Purtroppo, continua l'esponente centrista, al contrario si sta registrando una serie di preoccupanti slittamenti nella ripresa della produzione, aggravati dal mancato acquisto di materie prime necessarie per far ripartire l'impianto. L'assessore Simoncini ha garantito che il tavolo di crisi regionale rimarrà attivo fino a quando non avremo certezze e garanzie da parte della proprietà Beltrame sulla reale volontà di riprendere il lavoro, che era stata data per certa e per la quale ci siamo a lungo impegnati.